A Monta ha 5.604.000 euro il maxi finanziamento erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'edilizia scolastica che permetterà alla provincia di Pescara di eseguire lavori di manutenzione straordinaria su decine di istituti scolastici dove saranno effettuate opere che non sono state coperte dai fondi del Masterplan. Gli interventi riguarderanno lavori di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici del Comune di Penne, ossia il Luca da Penne, il Mario De Fiori e il Marconi, per un milione di euro. con la manutenzione straordinaria dell'edilizia e degli impianti e interventi su elementi non strutturali dei solai per le criticità segnalate a seguito di indagini diagnostiche. 2 milioni e mezzo di euro sono destinati all'intervento di straordinaria manutenzione del liceo scientifico da Vinci di Pescara e dell'Istituto Cupari di Alanno dove è prevista la riqualificazione edilizia straordinaria e il rifacimento degli impianti. Quasi 1.200.000 euro saranno invece spalmati sul liceo classico d'Annunzio, il liceo scientifico Galilei il liceo artistico Coreautico Misticoni Belisario, l'Istituto Tecnico per Ragioniere e Geometria Cerbo e l'Istituto Alberghiero Ipsar de Cecco di Pescara e lo Spaventa di Città Sant'Angelo sempre per la manutenzione straordinaria di edilizia e impianti. Ancora un milione di euro andranno agli istituti a Terno Mantone, sede storica, e all'Ipsar de Cecco di Pescara per consentire interventi su elementi non strutturali dei solai per criticità emerse in seguito alle relative indagini. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dall'intero Consiglio Provinciale. Inaspettato comunque importante. Importante perché? Perché sono fondi di fuori, fondi strutturali che servono per ampliare o adeguare sismicamente le scuole. Questi sono fondi che comunque ci facciamo quei piccoli lavori di manutenzione straordinaria in cui le scuole servono, le palestre soprattutto, i laboratori, che abbiamo dei laboratori o delle palestre dove c'è un'infiltrazione di acqua e con questi fondi possiamo intervenire. Devo ringraziare pubblicamente tutti i dirigenti scolastici perché hanno fatto un lavoro egregio e anche gli insegnanti. Una mia valutazione personale ritengo che il luogo più sicuro è proprio la scuola per i ragazzi e questo è molto molto importante. La presenza a scuola dipende dal comitato tecnico scientifico e dipende dalla curva epidemiologica ma spero che a breve si possa tornare in presenza perché è vitale ed importante per i ragazzi relazionarsi direttamente a scuola.